Bentornati per un nuovo aggiornamento per quanto riguarda la tuta absoluta nel pomodoro. Allora siamo in primavera finalmente, se vogliamo, in Serra fa caldo e qui da noi in Sicilia la generazione svernante dell'insetto inizia a dare problemi già appunto anche da fine febbraio se vogliamo. Quindi come stiamo agendo nelle nostre coltivazioni di pomodoro? Attualmente la nostra azienda produce soltanto pomodoro, che è la nostra specialità, se vogliamo. Se seguite il canale lo sapete, quindi se non seguite, siete nuovi, vi dovete iscrivere assolutamente. Dicevo come stiamo agendo? Se vedrete dietro di me le coltivazioni che hanno 6-7 mesi di vita sono belle sviluppate, belle adulte, molto grandi, le piante sono molto lunghe, quindi non è semplice andare a intervenire. Come sapete noi abbiamo tutto un metodo di coltivazione che è basato principalmente sulla prevenzione e una grande effetta di questi interventi preventivi è data dagli interventi fogliari in polvere, polverosi, come li vogliamo chiamare, li chiamiamo. Quindi non è molto semplice andare a intervenire in questo modo con le polveri, perché andare a passare con un solfatore. Ecco, quindi per questo stiamo facendo da 4 settimane gli interventi fogliari acquosi. Viene scomodo fare anche questo tipo di interventi, però ci stiamo riuscendo. Sono interventi, se vogliamo, molto rapidi, perché parliamo con volumi d'acqua di circa 50 litri per mille metri quadrati. Però sta funzionando, ok? Perché ovviamente c'è l'efficacia dei prodotti utilizzati. Io ve li metterò qui nel video da qualche parte e andate a guardare sempre in descrizione, perché metto altre specifiche e altri dettagli. Va bene? Quindi grazie a questo trattamento una volta a settimana, Se vogliamo, con poco utilizzo di prodotto, quindi abbiamo buoni risultati. Potrebbe sembrare strano per qualcuno, dice ma ancora è presto per la tuta assoluta. Vi assicuro che qui da noi non è presto. Vi assicuro che già ci sono diversi colleghi e altre aziende agricole che hanno grossi problemi, anche facendo molti più trattamenti, invece noi lo stiamo controllando il fenomeno, va bene? Così. Non dico senza nulla, perché comunque andare a fare il trattamento una volta a settimana e ci vogliono i prodotti c'è un determinato costo, sia in appunto materiali, sia che in mano d'opera, quindi lavoro. Però le coltivazioni ancora sono in una fase di piena fruttificazione e andarle a danneggiare in questo momento sarebbe un danno grosso appunto per la nostra azienda e per tutte le aziende che coltivano pomodoro in questo periodo. Quindi si può fare. Ci sono delle novità sotto il punto di vista proprio dei prodotti che utilizziamo contro la tuta assoluta e non solo, in generale per coltivare, quindi per andare a rimediare tutti i vari problemi che ci sono. Ma ecco, questo mi sono espresso male, mi dovete scusare, perché effettivamente con questo tipo di agricoltura naturale, se vogliamo, quindi con un metodo di coltivazione naturale, non dobbiamo rimediare ai problemi, ma dobbiamo sempre appunto prevenire, ma mettere in condizioni le piante, quindi cercare di fortificare al meglio le piante perché devono resistere ai vari stress. Come sappiamo ce ne sono diversi, ci sono le malattie, ci sono parassiti, sbalzi di temperatura e tanta roba. In base al tipo di coltivazione può essere più soggetta, più sensibile appunto a tutte queste avversità. Nel caso del pomodoro è così, è una coltivazione abbastanza delicata. Quindi dicevo, ci sono delle novità, abbiamo forse qualche strumento in più, qualche arma in più per combattere la tuta assoluta nello specifico, ma ripeto, ma non solo, perché ci sono tantissimi problemi. Ora con l'arrivo dell'estate, le stagioni passano veloci, quindi l'aumento delle temperature, si aggiungeranno altre problematiche oltre a quelle che già abbiamo. Bisogna stare sempre un passo avanti, ecco, bisogna sempre pensarci in anticipo. Poi quando il danno è fatto non si possono fare i miracoli, questo è un concetto importante. Ora io intanto a fine video mi voglio scusare perché sono ancora raffreddato da due settimane e ho anche un po' di confusione in testa. Siamo in una fase qui in azienda con il lavoro abbastanza impegnativa, però voglio continuare ad essere presente e ad aggiornarvi per mostrare anche quello che accade, quello che facciamo, quello che succede e per dire che ci stiamo riuscendo. Ad oggi stiamo controllando bene la tuta assoluta nel pomodoro, ripeto, con il nostro metodo di coltivazione naturale, mentre in molti con l'agricoltura convenzionale, diciamo, con i metodi convenzionali, hanno problemi, hanno problemi grossi già da ora e li hanno avuti anche in inverno. Molte realtà, torno a dire, anche in inverno qui da noi in Sicilia, hanno problemi con la tuta assoluta, in quanto, appunto, l'inverno non è così freddo qui da noi e un'altra cosa, proprio la chicca per chiudere il video, è che un po' in tutta Italia quest'anno l'inverno è stato abbastanza caldo, fra virgolette, ma comunque più caldo degli altri anni. Cosa vuol dire? Che ci dobbiamo aspettare un boom dell'insetto, appunto, un po' in tutto il territorio nazionale. Stiamo attenti, mi raccomando, continuate a seguire il canale, gli aggiornamenti sulla tuta assoluta, se vi interessa questo argomento, e basta. Al prossimo video, grazie.